Questo video riguarda i migliori tre forni da esterno per cuocere. Il vincitore della qualità nel nostro forni da esterno per cuocere va al Bernard Forno per Pizza. Tutti i pizzaioli saranno gelosi della vostra stufa a legna. Il forno per pizza nero di Bernard sa come deve essere la vera pizza, dorata e croccantissima. E la cosa è che non bisogna più aspettare molto, infatti nero cuoce la pizza in tempi più brevi. Nero misura 40,7 x 81,35 x 83,26 cm ed è facile da imballare e trasportare grazie ai suoi quattro piedini ripiegabili in acciaio inox. Una volta allestita e riscaldata, la stufa a legna trasforma il balcone o la terrazza in una vera e propria pizzeria in un attimo. Non sei pronto per la pizza? Puoi fare la tarte flambé, la quiche o il pane fresco. Basta regolare la temperatura per il pane, ad esempio, fino ad un massimo di 250 gradi Celsius. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il Vavor Forno per Pizza. Questo forno per pizza portatile si riscalda rapidamente e la struttura in acciaio inossidabile 304 di alta qualità e il cotone isolante interno garantiscono una migliore conservazione della temperatura. La cordierite può assorbire l'acqua e mantenere il gusto croccante intorno alla pizza. I quattro piedini del forno per pizza a pellet sono pieghevoli e il camino è rimovibile in modo che non occupi spazio. Allo stesso tempo, c'è una maniglia per sollevarla facilmente. Inoltre, ti diamo un sacchetto per pizza in più da portare a termine. Il forno per pizza da esterno è molto comodo da usare. Ha una porta di alimentazione separata per l'alimentazione per alimentare i pellet di legno durante il processo di cottura. È anche facile scaricare le ceneri. Dopo l'uso, puoi pulire il forno per pizza con un detergente. Forniamo una vasta gamma di accessori per migliorare il tuo senso dell'uso. La pala pizza e i guanti permettono di infilare ed estrarre la pizza senza scotarsi. Il tagliapizza ti aiuta a tagliare la pizza in modo più uniforme. Questo forno per pizza all'aperto non si applica solo alla cottura della pizza, ma anche alla preparazione di bistecche, pollo, salsicce, pesce e altri alimenti che si desidera cuocere. L'operazione è la stessa della cottura della pizza in modo da poter ottenere vari cibi deliziosi a piacimento. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. Il vincitore della Performance Premium nel forni da esterno per cuocere è il Vian Forno per Pizza. Il nostro forno per pizza all'aperto può raggiungere una temperatura di 300 gradi Celsius, 300 gradi Celsius, entro 15 minuti dopo l'aggiunta di carburante e bruciare e preparare deliziose pizza in circa 60-90 secondi. Il riscaldamento ad alta temperatura veloce consente di cucinare rapidamente una varietà di alimenti in breve tempo. I nostri prodotti sono realizzati in acciaio inossidabile, resistenti e durevoli, prolungano notevolmente la durata e garantiscono una dissipazione del calore più uniforme durante la grigliatura. La pulizia è facile, basta pulire con un panno umido. Può risparmiare energia e tempo. Questo forno per pizza può essere installato rapidamente in pochi minuti. Ha un manico comodo da trasportare quando si esce e può essere utilizzato in qualsiasi momento per attività di cucina all'aperto. Dotato di un termometro che permette di monitorare la temperatura in forno in qualsiasi momento per ottenere i migliori risultati. Dotata di una pietra per pizza da 28 cm. La pietra per pizza ha una resistenza e stabilità estremamente elevate e può resistere alle alte temperature, in modo da poter preparare più deliziose pizze. Ampia applicazione. Cucina diversificata. Questo forno per pizza è il miglior regalo per ogni amante della pizza. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.